Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Sto lasciando cadere la sigaretta. Mortacci. Sì, però questa, quando succhio, quando aspiro, purtroppo non va, capito? Non va, raga, che devo fare? Cioè, mi va tutto in bocca il liquido. Ecco, non ci posso credere! Ragazzi, scusate, mi sto sentendo male! Ah, molto meglio così senza volume! Allora... No, mai non ce la faccio! Ma io sono sicura... Mai non ce la posso fare, regà! 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 Tu invece? La sto curando, Mariana, sarà un po' complicato, no? Comunque... Per lei che è un gatto, prendersi i medicinali è difficilissimo, però... Ah, c'è un'altra chiave, c'è un'altra chiave qui! Questo Warzone 2... Carichi! Sei proprio un vecchio... Compreanno! E no, ho detto compreanno, non compreanno! Cioè, a posto della nella gli ho messo la merda! No, che figura di merda! Mi metterà proprio vergogna a fare una roba, si vede davanti a tutto a spugliare, no? Cioè, è una cosa la sfilata, è una cosa fa sta roba! Cioè, se sono la sfilata che ci sono altre ragazze che fanno la stessa cosa mia, allora sì! Però se sono da sola, no! E vi piace, vero questa idea? Lo so che vi piace, lo so! Matti! Eh, Matti! Ultimamente alimentazione e allenamento! Sfiliamo io e te! Va bene, mega! Ma quelle di Capri? Quelle là che vado in vacanza? Quelle le farò sempre, le live irra le farò sempre quelle, sì! Ciao, Marti! Buona serata! Concetta su un giardino! Life, non ho un giardino, per fortuna! Se no, in questo momento mi sei ricacata veramente sotto, ma proprio tanto tanto tanto, lo sai? Ragazzi, dai, un bel punto esclamativo sub, punto esclamativo prime! Facciamo salire un po' questo daily subino! Wey, saggioretto! Grazie mille per aver chiestato la sub! Wey, ciao, Ster! Yes, Aaron, yes, later, yes! SM stream today, yes! Cosa ha scritto? Aspettate! No, sono buggato! No, no, Manu, non sei tu, è OBS, OBS! Grazie, salvi! Come stai? Mattias, tutto a posto! Tu come stai? No, ragazzi, comunque no! No, io c'ho l'ansia dei... C'ho l'ansia dei... C'ho l'ansia dei... Non devi entrare! Por... Porca! 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 AHHH.. OHHH! Oh! Ma mangia e bevi che te frega Adesso vedo dai vedo cosa fare vabbè comunque bevo qualcosa quello si importante no mega c'ha comunque la cia comunque la forna la guarnizione esterna che è fritto anche se la faccia forno non cambia nulla solo analcolici a milano mi raccomando ma come sono analcolici che c'è perché l'epoca boom giusto solo perché noi ci stiamo solo perché noi ci stiamo mettendo più tempo e quindi sembra ancora più lenta la cosa guardate non c'è non c'è audio non c'è niente sentite non c'è niente lo vedete perché perché adesso che mi giro succede quello che succede no ragazzi non ce la faccio non ce la faccio ragazzi non ce la faccio porca questa non me l'aspettavo questa